come promesso eccoci di nuovo insieme per punto sport è finita da poco la partita tra Pescara e Siena è finita con una sconfitta per la formazione bianco azzurra 2 a 3 anche con qualche episodio da rivedere con il Pescara che era andato sotto di due reti con gol di prima di Angelo e poi c'è stato il raddoppio del Siena con un'autorete sfortunata di Damiano Zanon poi reazione d'orgoglio della formazione di Christian Bucchi prima con Selic che era entrato in corso d'opera al posto di Gaetano D'Agostino poi con una punizione meravigliosa magistrale di Romulo Eugenio Togni proprio lui proprio il giocatore che in settimana aveva dato praticamente l'addio ai colori bianco azzurri come contro il Catania disegna una parabola davvero bellissima che tra un po' rivedremo per il gol che vale il 2 a 2 poi nel finale invece c'è stato il gol di Emegara da valutare bene la posizione la posizione del giocatore del Siena che potrebbe essere anche in posizione dubbia e quindi gol da rivedere per valutare la posizione proprio di Emegara comunque arriva un'altra sconfitta per la formazione bianco azzurra dunque vediamo il quadro della giornata di campionato con il risultato acquisito dello stadio Adriatico stasera si gioca Atalanta Fiorentina Pescara Siena 2 a 3 con questa sconfitta andiamo a vedere la classifica insomma il Pescara rimane a quota 21 sempre più ultimo e adesso manca solo la matematica per la retrocessione Siena che dovrebbe avere tre punti in più a 30 il Pescara a 21 insomma adesso manca davvero eccola qui aggiornata con una partita in più per entrambe le squadre solo la matematica tiene in vita i bianco azzurri che sconfitti anche dai senesi dicono praticamente addio a tutte le chance di rimanere in serie A andiamo con ordine andiamo a vedere insomma quello che è stata la reazione a caldo del web della rete andiamo sul sito del Corriere dello Sport c'è la fotonotizia dedicata proprio all'anticipo tra Pescara e Siena 2 a 3 per la formazione che sarà anche poi il risultato finale stesso andiamo sul sito specializzato in questioni pescaresi come forzapescara.tv che insomma riprende anche quello che avevamo detto poco fa manca solo la matematica 2 a 3 con l'articolo relativo alla gara che si è appena conclusa giornata questa particolare di emozioni davvero intense a Pescara non tanto per il risultato sul campo quanto perché e allora cambiamo sito andiamo sul sito lavocedeipescaresi.net Pescara in ricordo di Pier Mario Morosini questa mattina il settore ospiti dello stadio adriatico presso il settore ospiti è stata scoperta la targa in ricordo di Pier Mario Morosini potete riconoscere insomma il primo cittadino di Pescara Luigi Albore Mascia il presidente della provincia Guirino Testa anche il presidente della Pescara Daniele Sebastiani un anno fa moriva tragicamente il centrocampista del Livorno Pier Mario Morosini proprio allo stadio adriatico di Pescara durante un Pescara-Livorno che in pochi davvero dimenticheranno allora andiamo a vedere i gol della partita vi dico subito che manca un gol quello di Selic del Pescara per il resto gli altri quattro ci sono tutti tra un po' ci collegheremo anche con il nostro Massimo Lupacchini che è proprio inviato allo stadio adriatico di Pescara per il post gara di Pescara-Siena per vedere le reazioni eccolo qui il primo gol un rinvio ma il destro di Capuano sulla testa di Angelo che deposita in gol il pallone dell'1-0 2-0 sempre nel primo tempo cross dalla destra Zanon al centro dell'area piccola nel tentativo di liberare praticamente in fila nella propria porta c'è il 2-1 di Selic questa è la punizione meravigliosa di Romulo Eugenio Togni davvero un destro liftato va ad esultare Togni ma non servirà perché poi nel finale arriva anche il 2-3 di Emegara vedete tutta la panchina del Siena che si alza in piedi a festeggiare un gol che vale tantissimo Emegara vero e proprio crack di mercato per il Siena da quando è arrivato ha sciorinato una prestazione positiva dopo l'altra e purtroppo oggi il suo ennesimo gol condanna il Pescara ad una retrocessione amara sempre più amara che per oggi possiamo dire è abbastanza certificata anche purtroppo dai numeri perché i punti rimangono 21 per il Pescara un solo punto nel girone di ritorno e si fa fatica davvero a prevedere a ricordare squadre che in un girone intero abbiano raccolto così poco in Serie A andiamo allo stadio adriatico di Pescara dal nostro Massimo Lupacchini Massimo di nuovo buon pomeriggio siamo nel post gara nel post Pescara-Siena una sconfitta 2-3 insomma come va valutata? va valutata la reazione dopo lo 0 a 2 oppure va comunque presa l'ennesima sconfitta? è chiaro che innanzitutto buonasera ben risentiti è chiaro che la reazione c'è stata poteva portare addirittura anche al vantaggio del Pescara perché c'è visto quell'ardore agonistico quella voglia che invece nel primo tempo era stata completamente appannaggio del Siena però poi la vittoria forse è andata alla squadra che più l'ha cercata che più ne aveva bisogno che aveva messo di più nell'arco dei 90 minuti Pescara ha giocato mezz'ora 35 minuti il Siena ha avuto quel calo e poi probabilmente nei 90 la vittoria l'ha meritata anche se il gol del 3 a 2 che poi immagino rivediate o abbiate già rivisto allora guarda noi abbiamo rivisto però le immagini praticamente si fermano l'assist finale è il tap-in di Emegara ecco vogliamo spiegare tu che eri allo stadio un fuorigioco nettissimo da parte di chi? Il fuorigioco è netto per l'ultimo passaggio quello di se mi aiutate del del giocatore che dà l'assist alla Demegara che dà la palla Demegara esattamente è lì che c'è il fuorigioco evidente evidente che poi ammesso anche dai colleghi senesi io poi immagini ripeto non le ho viste però dal vivo difficilmente si ha la sensazione reale di un gol in fuorigioco perché poi magari l'azione veloce in questo caso è netta proprio la sensazione di una posizione di fuorigioco ti interrompo solo per dirti che il nostro Andrea Costantini mi informa che c'è rivisto il replay c'è fuorigioco anche nel passaggio verso Demegara è più avanti rispetto alla linea del pallone il numero 10 del Siena e quindi probabilmente i fuorigiochi sono due insomma con il pareggio sarebbe cambiato poco però diciamo che tutto questo nemmeno aiuta non sarebbe cambiato nulla il Pescara poco prima aveva colpito un palo con Sculli il Siena una traversa insomma era una partita che si poteva decidere perché le squadre erano allungatissime quindi una partita che si sapeva potesse andare da una parte o dall'altra è andata dalla squadra che ripeto probabilmente aveva più voglia di portarli a casa questi tre punti perché il Siena ad oggi sarebbe salvo per riscontri diretti favorevoli con Genoa e Palermo e continua a lottare per un traguardo che sarebbe davvero incredibile al rispetto anche di un calendario molto complicato perché nelle ultime gare il Siena davvero se la gioca un po' con squadroni del calibro di Napoli Milan Fiorentina Chesso Catania però con i sei punti di penalizzazione il Siena non dimentichiamo che avrebbe 36 punti 36 punti tra salvo ecco stiamo rivedendo proprio il fermo immagine dell'ultimo passaggio verso Emegara insomma è difficile valutarlo oddio forse forse c'è un giocatore che lo tiene in gioco Emegara però diciamo che era nettissimo il fuorigioco sul passaggio precedente quello che dà il là in sostanza all'azione senti che clima si respira in sala stampa un po' c'è rassegnazione guarda alla fine per capirci non c'è stato nemmeno un accenno di contestazione niente nemmeno un fischio all'indirizzo della squadra questo proprio per per capire com'è l'aria che si respira insomma perché il pubblico dell'Adriatico ormai è rassegnato una retrocessione sicura non c'è nemmeno voglia di spendersi in contestazione o arrabbiarsi l'unica contestazione c'è stata al solito l'indirizzo del direttore sportivo Daniele Dellicarri è stato uno stricione esposto dalla curva nord molto eloquente meglio che non ripetiamo le parole però vi assicuro molto molto eloquente sul pensiero dei tifosi della curva che hanno di Daniele Dellicarri va bene Massimo io ti ringrazio ti ringrazio ovviamente ti lascio alle interviste del post gara del post pescara Siena ricordiamo il risultato finale il Siena vince seppur con un gol viziato da un nettissimo se non due fuori gioco vince per 2 a 3 i gol per il pescara di Selic e Togni per il Siena doppio iniziale vantaggio siglato da Angelo e dall'autorete sfortunata di Damiano Zanon e poi nel finale il gol tanto in dubbio quello realizzato da Emegara per il 2 a 3 conclusivo i riflessi filmati dei gol insomma le avete visti è un periodo davvero è un'annata davvero sfortunata ma un'annata davvero storta per il pescara che di cose ne ha imbroccate davvero pochissime in questa stagione a partire dal mercato poi ci sono stati tre tecnici insomma i 21 punti stanno lì a testimoniare un un anno no un anno da chiudere in fretta ripartire dalla serie B che oramai è scontata con quale allenatore il nome più gettonato è quello di Luigi De Cagno che a Pescara ha allenato anche molto bene sfiorando una promozione in serie A dopo una rincorsa fantastica e poi c'è da sistemare anche il tassello relativo al direttore sportivo l'ennesima contestazione l'avete sentita nei confronti dell'attuale Daniele Delicari che però non sarà ancora nell'organico del Pescara 2013-2014 la dirigenza bianco-azzurra sta sondando anche qui il terreno per cercare chi potrà essere l'erede di Daniele Delicari andare a costruire quella che sarà la squadra che dovrà insomma rimboccarsi le maniche e affrontare un campionato di serie B tutt'altro che semplice e allora andiamolo a vedere il campionato di serie B che ha giocato questo pomeriggio con i risultati clamorosi clamoroso quello della Virtus Lanciano Ascoli Modena 2-3 il Bari in rimonta perdeva 0-3 vince 4-3 sulla Virtus Lanciano tra poco il servizio Cesena Verona era stato l'anticipo di ieri uno dei due 0-0 Cittadella Padova 3-3 Crotone Provercelli 2-1 Grosseto Empoli l'altro anticipo di ieri 0-1 Juve Stabia Spezia 2-1 Novara Vicenza 3-1 Sassuolo Brescia 1-1 Ternana Regina 1-0 Varese Livorno 1-3 la classifica di questo campionato con il Sassuolo che è a quota 74 punti primo il Livorno accorcia a quota 70 ma soprattutto si stacca dal Verona che rimane terzo a quota 68 60 punti per l'Empoli 56 per il Novara 52 per il Varese 50 per il Brescia 48 per la Juve Stabia 47 per il Modena 46 Ternana e Crotone 45 il Cesena 44 per il Padova 43 per Bale e Cittadella 42 Spezia e Virtus Lanciano 41 per la Regina 40 per l'Ascoli Vicenza 32 Provercelli 28 Grosseto 23 punti insomma il Lanciano adesso è a meno uno dai play out si riporta in una situazione caldissima di classifica martedì sera aspetta l'arrivo della Ternana che oggi ha vinto 1 a 0 contro la Regina per il turno infrasettimanale ma intanto torniamo allo stadio San Nicola di Bari per vedere questa partita incredibile Bari batte Virtus Lanciano 4 a 3 dal paradiso di una vittoria storica in un palcoscenico di prestigio allo stordimento di una sconfitta che a Lanciano in pochi dimenticheranno tutto in pochi giri di lancette quelli fatali a Gautieri rossoneri splendidi per un'ora inguardabili irriconoscibili dal sessantesimo in poi matura così nella maniera più dolorosa e beffarda lo stop di Bari nella gara più scoppiettata della giornata di Serie B il Lanciano recupera Plasmati che va però in panchina Falcinelli però non sembra volerlo far rimpiangere e pronti via scalda le mani di Lamanna decisivo nella risposta in corner ma è potente quando dalla bandierina Mammarella e non è passato neppure un minuto Scodella la testa di Amenta è quella che arriva più in alto di tutti per il vantaggio frentano il Vare è stordito che Zal prova a liberare il destro violento sì ma che incoccia la base del palo di Leali il porterino si distende ma tira un sospirone di sollievo quando vede il montante che sputa fuori la conclusione dell'Algerino la reazione dei Galletti non si ferma qui stavolta Leali è chiamato agli straordinari quando disinnesca il bolide di Bellomo gioiellino conteso da molte formazioni di Serie A ma il lanciano del primo tempo è letale al 36esimo la ripartenza di Piccolo e Fulmina la difesa barese chiude il ritardo l'ex Livornese guarda al centro dove Falcinelli proprio lui deve solo mettere il piedone per cambiare di nuovo il punteggio e rimpinguare il bottino personale in stagione prima frazione al senso unico dunque i rossoneri in arancio per l'occasione passeggiano sulle rovine di un Bari che sembra impotente tanto impotente da subire al secondo della ripresa il Tris Rossi chiude male su Piccolo furbo ad anticipare la conclusione non potente ma disegnata col goniometro la palla lenta gonfia malapena la rete 0-3 e gara che tutti darebbero già in ghiaccio per di più i galletti di torrente non sembrano in gran giornata ma chi la pensa così è costretto a richiedersi subito cinquantesimo sponda di Caputo per Schaudone il destro rabbioso si infila alla sinistra dell'incolpevole Leali ma la distanza sembra ancora talmente ampia da lasciare poche speranze pugliesi analisi ancora errata 63esimo Defendi si incune in area di rigore occhiata dietro Caputo si fa trovare pronto alla battuta ancora nello stesso angolo del gol precedente angolino centrato Leali di nuovo Capò Bari che inizia a credere che l'impossibile sia davvero possibile e l'incubo del Lanciano è solo all'inizio altro dei 4 giri di lancette corre il respinto Defendi stavolta imbraccia il fucile svesta i panni dell'assistman prende la mira con una conclusione di rara bellezza e precisione indirizza la destra di Leali estremo Frentano si distende ma non abbastanza adesso Torrente crede addirittura del sorpasso toglie Ghezzalle per taglio e proprio lui in minuto 69 sfrutta la mancata chiusura della difesa rossonera palla sul secondo palo quarto gol del Bari in pochi minuti Torrente scatenato il Lanciano scivola all'inferno ridotto anche l'inferiorità numerica per il Rosso ad Aquilanti insomma finisce come peggio non si potrebbe il Bari vince sorpassa proprio il Lanciano a cui questo maledetto secondo tempo nella mente con Daniele Corvia e poi che però viene raggiunto dal Sassuolo con Longhi 1 a 1 andiamo a Varese per Varese Livorno vantaggio del Livorno grazie a Belingheri che realizzerà una doppietta questo è il decimo gol in stagione segnerà anche l'undicesimo vedete Caparbio Dionisi pallone dentro colpo di tacco di Belingheri e doppietta per lui 0 a 2 il Varese reagisce in qualche modo lo fa con Ebagua anche lui di tacco spalle alla porta e deposita alle spalle del portiere Livornese poi Dionisi viene messo giù da Bastianoni rosso per l'estremo difensore Dionisi dal dischetto eravamo al 51esimo gol anche dell'ex Celanese finisce 1 a 3 il Vicenza va in vantaggio a Novara con Gentili gol del vantaggio un po' a sorpresa dei Vicentini che navigano nei bassi fondi della classifica il Novara prima impatta con Lazzari gol dell'1 a 1 per il Novara che poi grazie a questo calcio di rigore concesso per questo fallo di mani in area si porta in vantaggio con il rigore di Buzzegoli 2 a 1 per i piemontesi che faranno tris nel finale grazie a Pablo Gonzales che vedete stoppa di petto si libera di un avversario pallone sul secondo palo nulla da fare per il portiere del Vicenza l'autorete di Romagnoli apre Juve Stabia Spezia con le vespe campane che vanno sull'1 a 0 e poi riescono a raddoppiare grazie a Zito Spezia in ginocchio ma che riesce comunque ad accorciare solo le distanze con Okaka serve a poco lo Spezia possiamo dirlo si possiamo dirlo per quanto ha speso in estate è una delusione ad Ascoli per Ascoli Modena vantaggio modenese con Dallabona su calcio di punizione il pari dell'Ascoli grazie a Soncin pallone dentro colpo di testa del Bomber 1 a 1 stesso Soncin che nella ripresa firma il vantaggio bianconero eccolo qui sfruttando un'indecisione della difesa del Modena 2 a 1 per l'Ascoli che a questo punto però si addormenta e allora il Modena non se lo fa ripetere due volte prima Mazzarani con questo tiro sporco sigla il 2 a 2 infine con Ardemagni che vince questo rimpallo e poi sottoporta è freddissimo Ardemagni Matteo Ardemagni ventesimo gol in stagione Litteri per la Ternana come detto la Ternana che sarà il prossimo avversario del Lanciano stende di misura la Regina e poi andiamo a Cittadella con il pari scoppiettante tra Cittadella e Padova Di Nardo per il vantaggio del Cittadella pari di Cutolo partita questa abbastanza particolare perché tre volte il Cittadella andrà in vantaggio e tre volte si farà recuperare ottavo gol per Cutolo qui c'è una sorta di rimpallo che favorisce un giocatore del Cittadella per il 2-1 nuovo pari del Padova con Emiliano Bonazzoli questo inquadrato è Fulvio Pea tornato sulla panchina dei biancoscudati Schiavon per il Tris del Cittadella a porta spalancata Eros Schiavon sesto gol per lui e infine altra rete stavolta di Zeduardo per il Padova finisce 3-3 andiamo a Lezio Scida di Crotone dove De Giorgio porta in vantaggio il Crotone che raddoppia con anzi prima c'è il pari di Eusepi per la Provercelli tiro sulla traversa e poi Eusepi sotto misura di testa Tappin vincente 1-1 e poi Maiello che va a segnare proprio sotto la curva dei tifosi del Crotone dei tifosi Pitagorici finisce 2-1 per la formazione calabrese come detto prossimo turno rapidamente prima di passare agli altri campionati eccolo qui 37esima giornata da tenere sotto occhio Virtus Lanciano Ternana lo faremo ovviamente e da considerare che tutte le partite si giocano martedì sera alle ore 20.45 l'unico posticipo è quello dell'ardenza di Livorno tra Livorno e Novara che non si gioca martedì alle 20.45 ma mercoledì alle ore 20.45 da una schermata all'altra andiamo in Lega Pro seconda divisione girone B con la schermata della giornata di domani considerando che una partita si è giocata oggi trentesima trentesimo appuntamento con il girone B aversa Normanda L'Aquila impegno morbido per Giovanni Pagliari al suo esordio sulla panchina Aquilana Chieti Vigor Lamezia da questa partita potrebbero passare le sorti della Salernitana tra un po' vi spiegheremo perché Foligno Campobasso Fondi Salernitana è stato l'anticipo di questo pomeriggio al purificato testa coda prima contro ultima la Salernitana capolista passeggia sulle rovine del Fondi 5 a 1 tra un po' al servizio Gavorrano Bonzi Interreggio il Teramo affronta invece in casa l'Arzanese come detto la Salernitana ha vinto non dovesse uscire un risultato positivo per il Chieti domani contro la Vigor Lamezia Chieti che è terzo la Salernitana potrebbe festeggiare con molte giornate di anticipo l'approdo in prima divisione la presentazione della giornata nel servizio confezionato da Andrea Costantini giornata numero 30 sempre meno punti a disposizione sempre più alta la posta in paglio la partita di domani doveva essere una semplice formalità per l'Aquila ma gli ultimi eventi la rendono densa di significati è la prima sulla panchina rosso-blu del neotecnico Giovanni Pagliari un sergente di ferro chiamato a rimettere ordine nello spogliatoio aquilano i primi segnali di una chiara inversione di tendenza dovranno arrivare dallo stadio Bisceglia Tana della retrocessa e ringiovanita aversa l'Aquila in emergenza senza testa carcione menicozzo agnello e infantino centrocampo da reinventare ma potendo contare sul reintegro di Iannini al fianco del quale dovrebbe trovare spazio Cannoni dentro anche Leuci e Ripa gli ultimi risultati hanno messo in dubbio la qualificazione ai playoff dunque niente distrazioni attesi tre punti senza mezzi termini ed anche una prestazione d'orgoglio contro una squadra che a dispetto delle tredici sconfitte di fila sta giocando con dignità e la voglia di mettersi in mostra dei tanti giovani schierati da mister Sergio aversa priva del brasiliano Wagner chi invece i playoff con alta probabilità li farà e i Lecchieti regina finora del girone di ritorno anche grazie ai 16 punti messi in cascina nelle ultime 6 partite qualcuno fa anche un pensierino al secondo posto distante 6 punti 5 senza la penalizzazione un sogno che andrebbe alimentato da un altro successo all'Angelini arriva una vigorla mezza approvata dal K.O interno col Teramo su entrambe le squadre il giudice sportivo è andato pesante ma non c'è tempo per rimuginare De Patre squalificato per tre giornate deve risolvere il ballottaggio tra i pali K.Feola favorito il secondo out anche Del Pinto e Alessandro avanzano la loro candidatura Cardinali e Rinaldi per un modulo un pizzico meno spregiudicato nella vigor assenti certi il centravanti De Luca e il fantasista Mangiapane toccherà l'under Catanese mentre Zampaglione fungerà da prima punta in casateramo i movimenti di natura dirigenziale attesa giorni l'ufficializzazione dell'avvocato Enzo Nucci fuori a quale responsabile dell'area tecnica fanno da sfondo la rincorsa ai playoff da parte della squadra che a caccia del terzo sorriso consecutivo a piano d'accio arriva un'arzanese impelagata nella notte per evitare play out e ritemprata dall'arrivo in panchina di Giovanni Ferraro 4 punti in due partite il tecnico biancorosso Cappellacci giocherà la carta Bucchi dal primo minuto mentre farà partire dalla panchina Petrella dando continuità a 10 undicesimi dello schieramento di La Mezzia obiettivo 3 punti sperando in buone notizie ad appoggi i bonsi dove i locali se la vedranno con l'interreggio gli arbitri Aversa L'Aquila Rizzo di Siena Chieti Vigor Melidoni di Frattamaggiore Teramo Arzanese Ferrari di Mestre E allora avete sentito quella che è la situazione in seconda divisione andiamo proprio in casa del Teramo per ascoltare le parole di questa mattina del tecnico Roberto Cappellacci No vabbè ci riserà Petrella nei 18 questa è l'unica cosa sicura poi chiaramente dovrò fare delle scelte dolorose ma va bene così perché in fondo speravamo di poter riavere la squadra al completo e così sarà Olcese Olcese sta bene Inconvocabile Sì sì no Olcese vediamo perché lì davanti ho qualche dubbio perché mi piacerebbe far rientrare Bucchi e mi piacerebbe non cambiare assetto alla squadra quindi sono indeciso se rigioca Bucchi Olcese La soluzione con le due punte di peso vista anche per una parte di partita alla Mezzia quella la scarte a prescindere No no quello è un pensiero che ho avuto tutta la settimana però però poi non vorrei squilibrare la squadra e non vorrei fargli perdere le certezze che ha quelle poche che abbiamo e quindi è una soluzione che posso pensare di attuare o a partita in corso o a seconda di quello che mi dice la partita che ci dice decisiva perché lo sono tutte le partite decisive per loro come per noi e quindi sarà una partita equilibrata dove chi sarà più bravo e avrà un po' più di fortuna la vincerà ma purtroppo senza offendere nessuno io ne leggo un po' pochi quindi non so che cosa sia stato scritto di cattivo a me interessa solo la squadra e anche perché altre cose non mi devono interessare quindi se vuoi essere più chiare lo puoi fare ma la mia risposta sarà sempre evasiva evasivo Roberto Cappellacci torniamo per un attimo a a Pescara Siena andiamo sul web per vedere le dichiarazioni a caldo di Bruno Nobili che dice senza giri di parole fa male perdere così ai microfoni di Sky Bruno Nobili ha detto la soddisfazione per una sconfitta non ci può essere certamente non abbiamo meritato di perdere fa male perdere con un gol irregolare ce ne siamo accorti persino noi dalla panchina che Agra era in fuorigioco Agostini si è fatto male quindi il cambio era obbligatorio Selic sarebbe dovuto entrare comunque ma certamente con l'infortunio è entrato prima siamo stati molto brutti nel primo tempo mentre nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio in altre partite non c'era stato questo carattere che ci vuole quando si vuole giocare in serie A poi è ovvio che abbiamo meno qualità degli altri facciamo anche fatica a tirarlo fuori Bucchi però farà carriera come allenatore queste le dichiarazioni di Bruno Nobili al termine della gara persa contro il Siena di contro Beppe Iachini soddisfatto che dice il mercato di gennaio lo leggete è stato decisivo purtroppo anche a Pescara si sarebbe voluta pronunciare questa frase così non è siamo partiti benissimo nel primo tempo imponendo il nostro ritmo e andando sul 2 a 0 devo fare un grande applauso ai ragazzi che ci hanno creduto e hanno lottato per recuperare una situazione di classifica complicata il mercato di gennaio a gennaio ci davano già retrocessi avevamo 9 punti di stacco dal Pescara e dovevamo risalire la classifica tanti giocatori sono andati via e a questi si sono aggiunti i problemi del nostro sponsor abbiamo provato ad inserire giocatori adatti al modulo cercando di non spendere nulla e di ottenere risultati non abbiamo fatto ancora nulla ma abbiamo risalito la classifica arrivando al punto di potercela giocare questo Beppe Iachini al termine di Pescara Siena adesso chiusa la parentesi relativa a Pescara Siena la riapriremo promesso nella parte finale di Punto Sport e torniamo alla seconda divisione girone B abbiamo visto le abruzzesi siamo andati in casa del Teramo oggi però si è giocata una partita la Salernitana passeggia sul Fondi 1 a 5 il servizio promozione ad un passo e la seconda divisione se ne va oltre alla capolista come hanno ridato gli oltre 1300 tifosi presenti allo stadio purificato di Fondi per il 5 a 1 ottenuto dalla Salernitana contro la squadra allenata da Fabio Fratena 5 a 1 con doppietta di Ginestra gol di Guazzo Molinari e poi un autorete poi la rete di Romano per i Pontini pronti via Guazzo ha subito la possibilità di portare in vantaggio la squadra ma da solo manca dinanzi alla porta il bersaglio arriva invece il gol di Ginestra sul calcio di punizione dopo 9 minuti un destro che lo lascia scampo al portiere Gasparri quindi ancora Ginestra stavolta gli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce di testa e manda il pallone in rete doppietta per lui 16 gol per il Cobra in campionato esce fuori anche il Fondi in questa fase della partita in particolare con Bernasconi che invoca un rigore al 24esimo e poi ancora con Guidone che impegna invece Razzi al 32esimo ripresa intanto Perrone aveva sostituito Mancini per lui distorsiona la caviglia con Capo e nella ripresa subito la traversa colpita dal Fondi con il nuovo entrato Romano aveva preso il posto di Gianlusa sulla deviazione di Dazzi dopo tre minuti poi ancora la Salernitana stavolta con Guazzo al quinto manca il terzo gol pallone tra portiere e palo sfera comunque respinta poi ci prova ancora Guazzo all'ottavo avvicino al terzo gol Guazzo che ha cercato in tutti i modi la marcatura personale il tre a zero invece lo firma Molinari al diciassettesimo di testa un bel gol in elevazione e per il difensore centrale oltre ad una buona prestazione ancora un gol il gol di Guazzo arriva cinque minuti più tardi l'assistavolta è di Ginestra Guazzo una conclusione precisa sul palo opposto per Guazzo il quindicesimo gol stagionale sul quattro a zero il Fondi prova a realizzare il gol della bandiera che realizza e segna Romano un bel gol alla mezz'ora Romano che merita questa rete anche per l'intraprendenza con la quale ha disputato la partita poi nei minuti finali un'autorete Marotta per anticipare Guazzo mette il pallone di testa alle spalle del proprio portiere per il 5 a 1 finale con la Salernitana che a fine gara festeggia con i propri tifosi quella che di fatto è da oggi la promozione in prima divisione eh sì solo questione davvero di tempo se non sarà questa giornata sarà la prossima ma insomma la Salernitana torna in prima divisione domani seguiremo molto da vicino ovviamente le tre formazioni abruzzesi impegnate nel Girone B di seconda divisione il Teramo contro l'Arzanese il Chieti contro la Vigor Lamezia e l'Aquila ad Aversa contro l'Aversa Normanna in serie D anche qui sarà puntato il nostro sguardo domani vediamo quello che ci attende con la schermata Ancona San Nicolò Celano Amiternina unico derby di giornata Città di Marino San Benedettese Civitanovese Isernia Fidene Vispesaro Iesina San Cesareo Maceratese Angolana Agnionese Astrea Termoli Termoli Re Canatese insomma derby a parte due impegni difficilissimi per le due squadre abruzzesi perché il San Nicolò va ad Ancona l'Angolana va a Macerata sarà una giornata molto complicata lo vediamo nel prossimo servizio Si infiamma il duello in vetta la classifica di Serie D a quattro turni dal termine della stagione regolare e laziali marchigiane e molisane si giocano la parte alta con relativi playoff in un campionato in cui purtroppo le abruzzesi magari poco attrezzate anche un pizzico sfortunate in alcuni frangenti hanno dovuto sempre fare i conti con le ristrettezze di classifica la parte destra della graduatoria è stato per 30 settimane e l'avita delle nostre sarà così fino alla fine del torneo intanto c'è un campionato da vincere il San Cesare dopo lo scivolone di Macerata ha visto ridursi ad un solo punto il margine che la separa ora dalla San Benedettese e i rosso-blu avrebbero anche la carta sorpasso a portata di mano perché Palladini e Soci vanno dal cittadimarino penultima della classe che sembra avere ancora poco altro da chiedere alla stagione avversario dunque non scomodo come per esempio la Jesina che al Carotti riceve la visita della capolista San Benedettese senza il proprio pubblico al seguito trasferta vietata agli ospiti quella di Roma ma non solo rosso-blu senza sostegno anche domenica prossima al Bedelli di Pesaro ad inseguire distante solo qualche punto il Termoli impegno al Cannarsa tutto giallorosso per Giacomarro contro la Recanatese per i termolesi il ramarico di aver lasciato per strada alcuni punti che ora sarebbero stati fondamentali la Maceratese invece quarta forza del raggruppamento gioca ancora all'Elvia Recina stavolta però riceve l'Angolana in fase decisamente calante ancora stordita dai quattro gol rimediati nel giro di mezz'ora dall'Ancona non più tardi di domenica scorsa arbitra Michele Volpato di Merano un unico derby quello di Celano ultima spiaggio quasi per i marsicani che hanno l'obbligo di vincere per accorciare rispetto al duo Civitanovese Isernia che si scontreranno guarda caso al Polisportivo ma ulteriore chance per la Miternina che con un risultato positivo magari col bottino pieno potrebbe vedere la strada un po' meno ripida nella rincorsa alla permanenza specie dopo aver regolato settimana scorsa proprio la Civitanovese arbitro della sfida Giosuè Mauro Dappice di Arezzo impegno proibitivo al Del Conero per il San Nicolò dei amici si ha detto che ci crederà fino alla fine ma è chiaro che ci vorrebbe un miracolo per tenere in vita i terramani ormai destinati dopo due stagioni a fare ritorno nel campionato di eccellenza arbitra Perrotti della sezione di Campobasso chiudono il programma Fidene Vispesaro e Olimpia Agnonese Astrea in eccellenza invece la giornata di campionato anche qui c'è stato un anticipo nel pomeriggio quello tra Pineto e Guardiagrele tra un po' andremo a vedere i riflessi filmati 32esima giornata al Terrocca al Badriatica a casa rincontrata Montorio Civitella Roveto Capistrello Migliani con Francavilla come detto Pineto Guardiagrele 2 a 1 Rosetana Vastomarina Sant'Egiliese Giulianova Sportingortona Sulmona Torrese San Salvo con questa insomma con questa vittoria vediamo dove si attesta il Pineto prima di vedere il servizio a 41 punti a meno 3 dalla Torrese che oggi sarebbe ad oggi l'ultima qualificata per i playoff andiamo a vedere insomma tutto quello che è successo non si giocava a Pineto si giocava sul neutro di Silvi Marina vittoria del Pineto 2 a 1 sul Guardiagrele Il Pineto torna alla vittoria dopo 4 K.O. consecutivi e lo fa nell'anticipo della 32esima giornata in casa ma al comunale di Silvi contro il già retrocesso Guardiagrele Per la formazione di Ciarrocchi però non è stata una passeggiata e conquistare i 3 punti non è stato facile complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni Il primo tempo è tutto di marca pinetese con diverse occasioni da gol create ma non trasformate Il vantaggio arriva alla mezz'ora quando Colancecco dal fondo gira al centro e Maloku spinge in rete In avvio di ripresa Di Felicea sul destro la palla del raddoppio ma conclude alto Al nono a sorpresa il Guardiagrele pareggia Errore sulla tre quarti difensiva dei Biancazzurri che spiana la strada alletta che si presenta tu per tu con Di Furia e lo supera Il Pineto prova subito a riportarsi in vantaggio ma Di Felice tradito dal rimbalzo del pallone non trova la deviazione Sul fronte opposto invece stenta non approfittare di un regalo del numero uno pinetese di Furia che rischia di capitolare ancora Al ventiduesimo il Pineto passa di nuovo in vantaggio fa tutto Miani che prima conquista un calcio di rigore poi dagli 11 metri spiazza Rullo e firma il 2 a 1 Nei minuti i finali Biancazzurri provano ad andare ancora a segno ma trovano sulla loro strada un attento rullo che nega la gioia del gol e prima pica poi hanno entrato Trento che ci prova in due occasioni senza fortuna tre o quattro partite fa ero convinto di poterli fare playoff ma adesso no oggi il campo era impossibile quindi abbiamo giocato anche non bene comunque era importante la vittoria in modo che per quello che dice lei ci ha messo in tranquillità per cui siamo contenti così il nostro obiettivo è quello di concludere il campionato dove nessuno può dirci qualcosa nel senso di a testa alta fino alla fine con i nostri ragazzi infatti ho avuto un piccolo battibecco con l'allenatore appunto perché vorrei in squadra il più possibile ragazzi del Vivaio e di Guardia Grele insomma vittoria per il Pineto 2 a 1 contro il Guardia Grele dei giovanissimi a questo punto verrebbe da dire ma effettivamente è così un rapido sguardo adesso al calcio a 5 perché oggi era una giornata giornata di derby a Montesilvano tra Montesilvano e Acqua e Sabone questi sono i risultati vittoria per la formazione angolana 2 a 1 per quanto riguarda gli altri risultati Lazio Genzano 5 a 5 Venezia Caos 10 a 6 Asti marca 2 a 1 Napoli Pescara vittoria 3 a 7 Luparenze Putignano 10 a 1 Rieti Verona 7 a 0 andiamo a vedere anche i tabellini questo è quello di Montesilvano contro Acqua e Sabone 2 a 1 come detto la vittoria al Palaroma per gli angolani in gol Silveira ed Hector per i nerazzoni di Massimiliano Bellarte unico gol di Cuzzolino per Montesilvano vedete anche un cartellino rosso nelle file dell'Acqua e Sapore per Marzio Junior Zanchetta vittoria semplice per Pescara a Napoli 3 a 7 3 gol per Douglas Nicolodi 1 per Morgado Assad De Luca e Jader Fornari per Napoli le marcature di Rodrigo Emer Daniele Melise e Antonio Campano questo per il calcio a 5 nel basket invece in DNA trasferta a Latina per la BLS Chieti in DNB domani è il giorno del derby il servizio di Andrea Costantini la vittoria su Sansevero ha riaperto spirali di uscita dalla zona play-out la BLS Chieti vuole crederci del calendario regala una chance la trasferta di domani sul campo della benacquista Latina squadra sin leggera ripresa ma che naviga al penultimo posto in classifica quindi un match alla portata del quintetto sorgentone che poi avrebbe le ultime due partite consecutive casalinghe da giocarsi per avvicinare l'obiettivo a guidare i biancorossi sarà l'ex di giornata Marco Micevic prelevato a stagione in corso proprio dai puntini e rivelatosi un'addizione importante per la BLS che però aspetta ancora con ansia Gatti e Diomede nella latina degli ex terramani Plateo e Gagliardo e l'all'argentina Manuel Carrizo il sorvegliato speciale in DNB e la domenica del derby di ritorno tra Amatori Pescara e McKenner Giroseto ormai una classica le due squadre in queste tre stagioni si sono incontrate spesso sia nel regular season sia nella finale di C direttanti di due anni fa e si conoscono molto bene l'Amatori ebbe la meglio alla bella in quella serie da allora Roseto poi ripescata ha fatto il pieno vincendo le successive tre partite in DNB all'andata 78-65 al Palamaggetti le due squadre arrivano all'appuntamento in condizioni diverse sicuramente in ascesa la McKennergy che è molto vicina alla conquista del secondo posto rispetto alla gara d'andata a un Di Giulio Maria in più nel motore e ora può contare sui recuperati Marcante e Caruso l'Amatori Pescara ha perso smalto in trasferta le ultime sconfitte sono costate per ora il quarto posto battere Roseto per riprenderlo questo è l'input del grande ex di giornata coach Tony Trullo che avrà bisogno di confermare il quasi perfetto rendimento interno e di percentuali importanti dall'arco dei suoi tiratori Gilardi Maino e l'altro ex La Gioia per estendere il campo visto che Mlinar troverà sotto canestro una possente front line difficile da superare al Pale Lettra ore 18 atteso il pubblico delle grandi occasioni in DNC Globo Giulianova Spider Fabriano oggi alle 18.30 domani alle 18 Vasto Airola e Lanciano Benevento insomma giornata da non perdere anche per il basket e allora facciamo così siccome siamo in chiusura diamoci a rivedere i gol di Pescara Siena i cinque gol che hanno deciso la gara questo è il primo il vantaggio di Angelo con il rinvio ma al destro di Capuano proprio sulla testa del giocatore del Siena 0 a 1 sempre nel primo tempo cross dalla destra e Zanon sfortunato ci mette il piede sinistro ma realizza nella porta sbagliata il Pescara però esce rinvigorito dagli spogliatoi qui Sculli è chiuso Selic che aveva preso il posto di D'Agostino Mancino sotto l'incrocio dei pali per l'1 a 2 rimonta completata da Romulo Eugenio Togni una punizione fantastica del centrocampista brasiliano per il 2 a 2 nel finale Agra servito in posizione di offside serve Emegara anche lui in posizione dubbia il gol del 2 a 3 del Siena che dunque condanna il Pescara alla retrocessione in Serie B non è matematica ma manca davvero davvero poco un'occhiata a alcuni siti web i più importanti partiamo dai nazionali dalla Gazzetta dello Sport Serie A Siena Pescara 2 a 3 Emegara salva i bianconeri gol di Angelo Selic Togni e autorete di Zanon si parla di gara incredibile all'Adriatico i Toscani avanti 2 a 0 si fanno riprendere dalla squadra di Bucchi che raggiunge il 2 a 2 il 41esimo del secondo tempo la rete decisiva del nigeriano viziata però da un fuorigioco nella foto vedete la targa scoperta questa mattina in onore di Pier Mario Morosini per quanto riguarda il Corriere dello Sport il Siena piega il Pescara all'Adriatico finisce 3 a 2 la squadra di Iachini al termine di un match ricco di emozioni e gol ospiti avanti 2 a 0 poi la rimonta degli Abruzzesi decide un gol di Emegara all'86esimo un legno colpito per parte questa è la risultanza dei giocatori del Siena andiamo su un altro sito Sport Mediaset Serie A col Paccio Siena a Pescara con Emegara e qui nella foto Sculli che depone un mazzo di fiori proprio nella parte di terreno dove si accasciò un anno fa proprio Pier Mario Morosini all'Adriatico Emegara firma il 3 a 2 Abruzzesi vicini alla retrocessione e infine andiamo su una testata regionale il centro Pescara KO anche col Siena ora la B è dietro l'angolo leggiamo le poche righe di commento la gara dell'Adriatico finisce 2 a 3 per i Toscani che dominano il primo tempo subiscono la rimonta bianca azzurra nella ripresa ma piazzano la zampata decisiva a fine gara pronti via i bianconeri passano pasticcio difensivo e gol di Angelo 20 minuti dopo autogol di Zanone nella ripresa Bucchi la squadra di Bucchi ci mette cuore e orgoglio arrivano le reti di Sely Kettoni poi la doccia fredda finale con il gol di Emegara e questa era anche l'ultima schermata l'ultima videata per questo appuntamento speciale con Punto Sport per raccontarvi quello che è successo questo pomeriggio in Pescara Siena e tutto quello che accadrà domani allora questo mi dà l'assist anche per ricordarvi che domani a partire dalle 14.30 l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire tutti i risultati via via che cambiano ci sarà anche uno spazio dedicato alle interviste al post gala di Pescara Siena nella parte iniziale poi avremo collegamenti con i campi dove giocano le formazioni abruzzesi e non solo fino alle 17 poi dalle 19 invece il classico appuntamento della domenica sera con l'Abruzzo del pallone ci sarà Massimo Lupacchini con gli ospiti in studio per vedere le immagini tutto quanto è accaduto in una domenica che speriamo rispetto a un sabato un po' sfortunato un po' più fortunato per le formazioni abruzzesi punto sport finisce qui vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi un po' sfortunato un po' sfortunato un po' sfortunato un po' sfortunato un po' sfortunato